Buongiorno e buon inizio di settimana, ben ritrovati con la nostra consueta rassegna stampa del mattino. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo lunedì 8 maggio. Andiamo a spulciare insieme le prime pagine per scoprire appunto i temi caldi di questa giornata. Partiamo subito con il nostro giro, lo facciamo partendo dal quotidiano alla Sicilia. Tra le altre cose stamane una notizia di cronaca che non arriva però dall'isola, non arriva dalla Sicilia senza pietà. Questo il titolo uccide il presunto amante della moglie, accoltella a morte la figlia e filma la strage. Una notizia che tornerà, lo vedremo su diversi quotidiani in edicola stamane. Sicilia invece in campagna sempre più sfruttati. Questa la fotografia in calo, le assunzioni regolari, la proposta del segretario Huila Marino, sindacati e aziende sane, ovviamente, facciano cartello. L'assessore Turano dice invece formazione deve far rima con occupazione. E poi la politica, il governo offre il premierato, avanti anche senza accordo questo, il dibattito sulle riforme. Da dove è partita e com'è cambiata l'inchiesta che fa tremare la sanità catania? Il GIP decide sull'interdizione degli ex assessori. E poi l'emergenza migranti che diventa emergenza a Lampedusa. Si riapre il fronte libico, 23 sbarchi in una notte e l'hotspot è di nuovo in tilt. L'hotspot è questa struttura di prima accoglienza presente appunto a Lampedusa che è tornata a riempirsi. Ancora politica, Cuffaro incoronato, leader nazionale DC, ma è lite sul simbolo. E poi docufilm, Ciac su Rino Nicolosi, l'uomo e il politico, un tempo diverso. Per il lunedì siciliano invece ecco il danza storie che racconta la Sicilia. Il Catania perde l'ultima gara giocata a Trapani, ma è una sconfitta in dolore, poiché lo sapete il Catania ormai da tempo, da diverse partite, ha ottenuto la matematica certezza della promozione. Catania fallita, rapina in banca, latenta poi al bingo, ma viene arrestato. Publi servizi addio, sindacati alla firma, notizia sempre da Catania. Tre mestieri invece, anziani morti in casa, due decessi in 24 ore, mentre Taormina, G20 delle spiagge, arrivi scaglionati. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, vediamo cosa ci propone stamane invece il giornale di Sicilia. Questo è l'argomento in primissimo piano, notizia da Palermo. Fuori i colpevoli dell'orrore. Salme, feti e resti anatomici abbandonati da anni in un frigo spento ai rotoli, ovvero al cimitero dei rotoli. Possibile che nessuno sapesse, si chiede il giornale di Sicilia, l'assessore vicenda, incredibile la politica grida allo scandalo. E a proposito di Palermo, Consiglio Comunale, il bilancio resta un'emergenza, si procederà a tappe forzate. Congresso nazionale della DC, Cuffaro, eletto segretario, e scoppia la polemica. Agrigento, corruzione, accuse archiviate per Vella. Notizie invece che riguarda diversi comuni siciliani, con l'Anci Sicilia che lancia l'allarme, i comuni in dissesto salgono adesso a 110, già tre nel giro di un mese. Ampio spazio invece al Calcio e al Palermo. In foto lo vedete il tecnico del Palermo, dei rosa nero, mister Eugenio Corini. Ultimo sprint per sognare ancora, la corsa verso i play-off di Serie B. Palermo che nel fine settimana sarà impegnato contro il Cagliari e sono in palio. Tre punti pesantissimi per sperare ancora in una zona play-off ancora vicinissima. Migranti, Tunisia e Libia non fermano le carrette. sbarchi infiniti, lo abbiamo visto prima. L'hotspot di Lampedusa è tornato a essere in grande emergenza. Impianto di Mocarta tra Erice e Trapani, incompiuta tra le erbacce. Palermo, il verde Terrasi resta chiuso, riqualificazione ancora lontana. In taglio alto la guerra in Ucraina, Kiev è pronta all'offensiva, Mosca si prepara, mentre il fatto di cronaca, visto anche in apertura sul quotidiano la Sicilia uccide la figlia e un vicino e poi fa il video, si salva soltanto la moglie. Bollette elettriche pesanti invece per gli italiani sarà un lusso accendere l'aria condizionata. Lasciamo anche il giornale di Sicilia, ci spostiamo adesso sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. si parla soprattutto di politica, riforme senza l'opposizione, questo è il titolo. Alla vigilia dell'incontro a Palazzo Chigi con i partiti di minoranza, il governo strappa. Tajani dice, se si sfilano avanti da soli e decideranno i cittadini. Cassese, per ripensare le regole, serve l'accordo di tutti. Nella maggioranza resta il nodo dell'autonomia e Fedriga chiede di coinvolgere le regioni. Fitto invece attacca la Corte dei Conti sulla PNRR inaudita ingerenza, così bloccano tutto. Si parla anche del ponte sullo stretto di Messina, un regalo da Lega e Fratelli d'Italia, altri 4 miliardi a Salini. Un regalo da oltre 4 miliardi di euro al consorzio Eurolink, capitanato dal gruppo Salini, per l'adeguamento dei progetti firmati nel 2011 e poi annullati per il ponte sullo stretto di Messina. Lasciamo anche la Quotidiano La Repubblica, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Questo è l'affatto di cronaca certamente molto grave, che arriva dal foggiano. Jessica fa da scudo alla madre e il padre la uccide a coltellate. Muore anche il compagno della donna, video shock poi del killer, mentre la vedete in questa foto Jessica, la sedicenne, morta appunto per difendere la madre. E poi la politica, scontro sulle riforme, tagliani alle opposizioni, pronti al referendum, mentre Cottarelli lascia il PD di Ellis Line, Conte no al voto diretto sul Premier, domani incontro con Giorgia Meloni, nomine la linea di Mantovano. Lasciamo anche il Corriere della Sera. Adesso andiamo a vedere la prima pagina del Quotidiano La Stampa. Si parla di un tema certamente molto importante, ovvero quello relativo al lavoro l'Italia e contro i giovani. Titola Il Quotidiano La Stampa, uno studio IMS di vario salariale tra generazioni raddoppiato in 40 anni, età media degli occupati, più alta. Nomine intanto, trattative nella notte sul capo della finanza, Conte sfida i dem, Cottarelli lascia il PD e anche il Parlamento. E poi due storie di calcio, definiamole così, Platini, io e la Juve, Platini che racconta la sua esperienza in bianconero, parla l'ex campione, faccio il nonno e non ho rimpianti. Questo è invece un altro fatto non di calcio, ma che purtroppo riguarda il calcio, i razzisti del calcio, scrive la stampa, Vlaovic, attaccante della Juve, insultato ieri a Bergamo ed è stato anche punito, ovvero ammonito. La partita è stata poi sospesa. Dunque un altro episodio dopo quello avvenuto, lo ricorderete, all'interista Lukaku, o meglio, ai danni dell'interista Lukaku. Il giornale Elli spaventa tutti la deriva del PD, il leader dei 5 Stelle, scarica la segretaria, nessuna alleanza strutturale con loro e Cottarelli si dimette a disagio nei dem. Elli, chiaramente, si tratta di Elli Schlein, la segretaria del Partito Democratico. Dopo il video, grinta e tenace a tutto l'affetto del centrodestra per Silvio Berlusconi, che è intervenuto alla convention di Forza Italia con un video. E a proposito di Forza Italia, Forza Italia lancia il premierato, si apre la stagione delle riforme, Meloni domani vede i partiti, Tajani ribadisce avanti anche senza le opposizioni. E poi una stoccata a Gianfranco Fini, l'armo cronista di destra che abbina nero ad Arcobaleno con il giornale che lo inserisce tra gli insopportabili. Un fatto di cronaca, altra violenza in discoteca, la Milano di Sala fa paura, la sicurezza che non c'è. Mentre si parla, vedete anche, del fatto avvenuto a Foggia, orrore a Foggia, massacra la famiglia e poi filma il tutto. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, adesso andiamo a vedere il messaggero, anche qui un tema molto importante in primissimo piano, medici in fuga dagli ospedali. Andiamo a vedere perché. Ogni giorno in tutta Italia si licenziano in dieci per il troppo lavoro e i rischi di aggressione. La metà di chi resta ha l'esaurimento e rischia l'errore. I dati shock dell'associazione di categoria. Pensioni minime, inflazione beffa, gli aumenti bloccati da cinque mesi, gli incrementi dovevano scattare a gennaio. E ancora il premierato sul tavolo di Meloni, italiani pronti anche a fare da soli, domani il confronto con le opposizioni. E poi la grave fatto di cronaca anche, vedete, sul messaggero, il sacrificio di Jessica per salvare la mamma, a 16 anni fa scudo, uccisa dal padre, le fa scudo, ovvero fa scudo alla madre, padre che la uccide poi posta il video dell'orrore. Dal messaggero al mattino che invece celebra il Napoli da Scudetto, ieri altra grande festa al Maradona, da Oscar, questo è il titolo, contro la Fiorentina decide Ozyman, poi lo show Scudetto al Maradona e la città in festa. E vedete in questo scatto appunto l'esultanza dei giocatori del Napoli con uno dei grandi protagonisti, ovvero Victor Ozyman in primissimo piano. Il quotidiano La Nazione aiuti alle famiglie per mutui e prestiti, il governo prepara le misure contro il carorate verso prezzi calmerati invece per pane e pasta, Patuelli dice tassi alti, rischio recessione, Schlein con la maglietta FIOM intervista al segretario CISL sbarra, i sindacati sono autonomi, Scossone invece nel PD con Cottarelli che lascia il Senato e anche sul quotidiano La Nazione si dà ampio spazio a questo terribile fatto di cronaca, il sacrificio di Jessica fa da scudo alla madre sedicenne ammazzata dal padre, il killer uccide anche un altro uomo, poi come abbiamo già visto filma l'orrore commesso. Il quotidiano libero si sofferma invece sulla tredicesima, ecco come cambia la tredicesima, la Meloni pensa ai soldi, il governo lavora a un'aliquota agevolata del 15% per l'indennità natalizia, per lo Stato una spesa di circa 3 miliardi in busta paga fino a 420 euro in più. Il assontaggista Masia dice il consenso si gioca sui temi economici. Zangrillo lo vedete fuoriclasse di medicina e calcio facciamolo senatore a vita a scriverlo in questo caso è Vittorio Feltri Vittorio Feltri sì appunto invece la questione migranti a Parigi conviene l'asse con l'Italia la Lega in Europa presto cambierà Molinari capogruppo del Carroccio alla Camera ovviamente problemi di migranti e non solo abbiamo già avuto modo in questi giorni di parlare di botte risposta piuttosto al veleno tra appunto Roma e Parigi con attacchi arrivati dalla Francia ormai è un duello Putin-Zeleschi qui si parla chiaramente di guerra in Ucraina per questo la pace è impossibile questo è la parere dell'ambasciatore Sergio Romano e poi la Schlein non ha speso i fondi antialluvione l'Emilia Romagna con Ellie vicepresidente ha restituito 55 milioni lo sport con le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani partiamo dalla Gazzetta dello Sport siamo entrati ufficialmente nella settimana che porterà all'Euroderby di Champions League rischiaderby titola la Gazzetta inzaghi pioli e la febbre da Champions mercoledì in panchina la resa dei conti dopo due stagioni di sfide e siamo andati alla cena dei nemici tra i tifosi VIP e poi il caso Vlaovic gioia e rabbia Iling lancia la signora dei giovani cori razzisti contro Dusan che si ribella e viene ammonito lasciamo la Gazzetta questa è la Corriere dello Sport che invece esalta la Juve di Allegri secondo Max colpo a Bergamo con Iling e Vlaovic c'è Allegri dietro a Spalletti Juve spietata batte Gasperini e sorpassa Sarri Champions in tasca Bianconeri adesso al secondo posto in classifica dietro al punto al Napoli che canta e Osimen segna festa tricolore grande entusiasmo al Maradona e chiudiamo con il quotidiano sportivo si parla di Juve e di quanto accaduto ieri a Bergamo quel razzismo in bianco e nero Vlaovic risponde ai cori e viene ammonito sarà graziato come già avvenuto con Lukaku qui la vedete la rabbia di Vlaovic dopo i cori razzisti di ieri allo stadio di Bergamo nella sfida contro l'Atalanta ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa odierna adesso tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia come sempre per tenervi sempre aggiornati dunque vi invitiamo a rimanere con noi a più tardi a più tardi